Bisogna separare i processi amministrativi che credo in questo caso siano stati rispettati, poi è bene se sono state aperte le indagini, questo mi fa assolutamente piacere e confido nel lavoro preciso e puntuale che la magistratura soprattutto di Palermo sa fare. E quindi credo che su questo versante la chiarezza non è mai troppa ed è opportuno e necessario che si faccia chiarezza. Sono una questione che certamente riguarda un servizio importantissimo e i fatti di Napoli ci dimostrano che la politica deve essere molto attenta e deve sicuramente affrontare in maniera seria il problema. E senza tentennamenti, io credo che il Presidente della Regione e la sua coalizione di centrodestra farebbe bene a rispettare gli impegni che sono stati assunti con la legge finanziaria che prevedeva la riforma degli ato e da quella data ancora aspettiamo il decreto di attuazione. E quindi è chiaro che in una situazione di limbo in cui ci troviamo ogni operazione o ogni movimento diventa sospetto e diventa difficoltoso riuscire a contenere la spesa e riuscire a mantenere un servizio nel rispetto di quei criteri di efficienza, efficacia e economicità che sono tanto richiamate ma anche molto spesso vituperate.